Non sono migliori della vita. Perché i cerchi che si sono formati intorno a grandi strumenti, umanamente, non sono migliori della vita? Commento. È vero che nei grandi cerchi le guide immateriali dicono verità di molto, superiori ad una sola vita, ma le guide sono state uomini e adesso non lo sono più, definitivamente, mentre i partecipanti dei cerchi sono ancora umani.